Una sconfitta probabilmente immeritata per come maturata. La Fidelisandria nell'ultimo incontro, disputato contro la Paganese, si arresa nei minuti finali. La squadra guidata da Luca D'Angelo in particolare ha gestito principalmente il match non riuscendo però a sbloccarlo e, nei minuti finali di gioco, ad approfittare dalla superiorità numerica dovuta all'espulsione di Cicerelli. Alla fine, dunque, si è dovuta arrendere a causa del gol siglato da Caccavallo all'ottantottesimo minuto. Non è stata una prestazione brillante ma ci sono tante cose positive da prendere in quella gara. Se meritavamo di più molto sicuramente lo abbiamo fatto malissimo. Poi abbiamo preso gol all'ottantottesimo, potevamo evitarlo però ci sta, un errore che ci sta. Niente di particolare. Abbiamo fatto la nostra gara, sappiamo che possiamo dare di più e cercheremo già da sabato di riscattarci. La formazione non segna da diverse settimane. Con quella di sabato contro i campani, infatti, sono cinque le gare consecutive in cui la Fidelis è rimasta a secco. Questo dato può sicuramente influire sul morale della squadra. Sappiamo che non facciamo gol a diverse settimane ma questo non dobbiamo portarcelo in campo perché più ci pensiamo, secondo me, è peggio. Noi continuiamo a giocare, come sappiamo, anche qualcosina in più e poi i gol sono sicuro che arriveranno. Contro il Benevento il tecnico Luca D'Angelo ritrova il difensore Aia, il quale è tornato ad allenarsi con il gruppo. E' l'attaccante Temena, reduce da una squalifica, mentre non potrà contare sui lungodagenti Fissore e Strambelli. Mister Auteri, invece, in vista di questo scontro interno, dovrà rinunciare a Ciceretti, autore del gol partita all'andata.